ci troviamo a piazzola sul brenta stiamo entrando villa contarini caseus e in festa caseus formaggi d'eccellenza vedete che meraviglia guardate anche queste statue che meraviglia unica questa villa sono informazioni si può prenotare vedete un'autocamera abbiglia un'autocamera un'autocamera però un'autocamera 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 spettacolare un'autocamera 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 Continuiamo a seguire i formaggi. Meraviglia. Avete visto che formaggi è ancora lì? Che stravecchie, fantastici, guardate, è incredibile, guardate che stravecchi, una cosa incredibile, dovrebbe essere un guanciale penso, vedete? E' un sogno, un sogno per tutti sta villa. Villa Contarini, davvero un sogno per tutti, vedete? Guardate. Questo video anche in 4K, ve lo faccio anche vedere, su YouTube. Guardate che formaggi meravigliosi e quei formaggi non si può non tirare giù la sta bellezza di sta villa, che è una cosa unica. Guardate che capolavori, unici. Guardate che stravecchie anche questo, incredibile. Questi sono formaggi freschi, vedete? Sì, sono già listiti in frigo. Guardate, guardate. Grazie. guardate sempre questa villa che è una cosa unica vedete che meraviglia guardate che meraviglia questa villa è una meraviglia unica stupenda capolavoro una meraviglia unica grazie grazie facciamo da questa parte qui grazie 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 ammirate veramente i formaggi unici guardate il peperoncino questi qui fantastici passiamo di qua adesso guardate viaggio villa contarini c'è zolla sul Brenta una magica villa Tra le più belle d'Italia. Un profumo unico, un profumo unico veramente. Un profumo unico. 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 Guardate che meraviglia in questa grotta, spettacolare, unica. Questa grotta con i nani è una cosa incredibile, vedete, è una cosa incredibile. E' una cosa incredibile.